Buongiorno DS Turotti, primo giorno di Raduno, domani poi si partirà per il ritiro di Sondalo. Quali sono le sensazioni ritrovato il gruppo squadra dopo qualche mese di pausa? Quindi quali sono le sensazioni? Le sensazioni sicuramente positive, nel senso che come sempre sia stato il primo giorno, i ragazzi da tempo che sono fermi, c'è voglia di lavorare, c'è voglia di fare, perciò c'è disponibilità, adesso anche se la squadra non è ancora completa, però siamo già un bel gruppo e ho visto comunque nei ragazzi la voglia di ricominciare. Quindi mancano qualche ruolo ancora da puntellare, tipo portiere, attaccante, diceva prima che si sta lavorando anche su dei prestiti, e poi per quanto riguarda il programma degli amichevoli se ci puoi dire già qualcosa? Allora, come amichevoli giocheremo il 31 quando scendiamo dal ritiro con l'Alessandria, e poi più avanti faremo un amichevole col Monza il 4 di agosto e poi con la Castellanzese il 7 di agosto. E poi via via adesso dovremmo fare un'altra all'11 contro la Caronnesa. E niente, mercato, vediamo quasi, quali sono le occasioni che si prospettano da qui a poco? Sì, beh, il mercato dura, sono ancora più di 40 giorni, perciò adesso qualcosa magari arriverà quando saremo ancora in ritiro, magari un elemento o due, poi magari diciamo gli altri dopo un ritiro. Grazie.